Ciao a tutti sono Amo gli italiani, benvenuti alle ultime notizie di oggi La celebre Paola Barale si lascia andare ad una rivelazione senza filtri, ecco quando, per l'attrice, l'amore si è trasformato in un incubo Una figura amata dal pubblico televisivo, Paola Barale, è riuscita ad aprire il suo cuore e raccontare come la sua vita è cambiata, soprattutto durante la pandemia e il lockdown Ha condiviso il suo pensiero su vari aspetti della sua esistenza, tra cui il lavoro, l'amore e la solitudine Delle opinioni che potrebbero essere condivise ma anche non comprese Paola Barale si confessa, amore, lavoro e solitudine.A 54 anni, Paola riflette sul cambiamento che ha subito la sua personalità con l'avanzare dell'età Confessa di disprezzare il processo di invecchiamento, si sente limitata dalle sue energie che sono ormai ridotte Tuttavia, esprime molta gratitudine per la vita e il senso di responsabilità che ha acquisito col tempo Durante il lockdown, anziché ritirarsi in se stessa, ha scelto di essere attiva e di aiutare gli altri Infatti, si è iscritta come volontaria alla Croce Rossa.Parlando della solitudine, Paola rivela di non averla mai vissuta come un peso Al contrario, ha trovato conforto nella propria compagnia, preferisce la libertà di essere sola piuttosto che vivere in una relazione che non le offre soddisfazione Ammette apertamente di non sentire la mancanza di un partner, ha una vita sociale ricca di amici e un'attività sessuale soddisfacente Tuttavia, se da un lato la vita amorosa sembra essere in sospeso, il lavoro rimane al centro della sua attenzione Paola spiega come ha preso una svolta, si è allontanata dal piccolo schermo per avvicinarsi al teatro Rivela di aver rifiutato alcune proposte televisive, perché si sentiva incompatibile con le tipologie di formato offerte Sogna di poter condurre programmi che valorizzano il puro intrattenimento, come lo show dei record o Italia's Got Talent, e rimane molto legata ai ricordi dei suoi successi passati In questo nuovo capitolo della sua vita, Paola riflette sul concetto di felicità e realizzazione personale Anche se ha vissuto momenti difficili, riesce a mantenere la serenità e l'ottimismo La sua storia è un esempio di resilienza e di adattamento ai cambiamenti, mostra come sia possibile affrontare le sfide con determinazione e coraggio Paola Barale si rivela una donna forte e indipendente, capace di affrontare le avversità della vita con grinta e determinazione La sua storia è un'ispirazione per tutti coloro che si trovano ad affrontare momenti di difficoltà, dimostrando che, anche quando l'amore sembra essere un incubo, è possibile trovare la propria felicità e realizzazione personale in altri aspetti della vita